Al gaslini la chirurgia del colon retto è una pratica specialistica che è da tantissimi anni che si fa nel 1963 il professor Soave pubblicava una delle prime esperienze sulla chirurgia dell'Irsprung da allora questa la parola Irsprung la malattia Irsprung omega colon è un argomento molto complesso che al gaslini viene studiato ampiamente i genetisti come potete vedere al gaslini la genetica ci permette di fare le diagnosi non solo Irsprung malformazioni anorettali sempre la possibilità di dare a questi bambini una continenza la parola normale non possiamo usarla proprio più vicina alla normalità e l'altro argomento della chirurgia colore tale sono le malattie infiammatorie croniche intestinali le malattie infiammatorie croniche intestinali sono un argomento molto complesso dell'adolescente ma anche età prima anche lo rifacciamo le malattie infiammatorie croniche intestinali e gaslini sono anni che vengono studiati dottor barabino dottor ganduglia la dottoressa rigo se ne occupano in prima persona il chirurgo è un po più marginale ma sicuramente malattia di cron malattia colito ulcerosa colito indeterminata la collaborazione tra chirurghi che non bastano anatomopatologi stomach care quindi un ruolo specialistico infermieristico nutrizionisti il bello del gaslini è collaborare tutti insieme la chirurgia colore tale non basta fare un intervento ci vuole un gruppo di specialisti che in questo istituto viene offerta un'altra forza del gruppo di chirurgia colore tale la parola chirurgia colore tale non è proprio corretta del gruppo che si occupa di patologie del coloretto che vanno all'intervento chirurgico sono oltre alla genetica oltre alla patologica sono la fisioterapia cosa vuol dire al gaslini c'è un gruppo di professionisti che si occupano di fisioterapia che si occupano di educazione del pavimento pelvico saper evacuare dopo che un chirurgo ci ha messo le mani bisogna rimpararlo ci vogliono persone dedicate per far questo quindi stomach care rieducazione del pavimento pelvico nutrizionisti genetisti gastroenterologi il gaslini offre tutto questo